guardate questo colore meraviglioso rosa spesso mi chiedono consumatori o clienti ristoratori mi chiedono ma john paul come spieghi il successo del vino rosato come mai c'è questa veramente voglia di dei consumatori di bere del vino rosato perché è il vino universale perché il vino che va bene con tutti i tipi di cibo non hai più bisogno di dire beh lui prende della carne allora vino rosso lui prende del pesce lo vino bianco perché vino rosato si abbina con tutti i tipi di cibo dalla cucina esotica dalla pizza la pasta la carne il crudo e dunque è più facile di più easy di bere un vino rosato dunque per i ristoratori è un'evidenza non si deve più dire rosso bianco rosso bianco si deve dire volete un rosè che va bene con tutto e con i consumatori più semplice quando avete amici di prendere vino rosè cin cin